Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Finiuse. Apriamo quest'edizione del nostro Tg, parlando della manovra finanziaria approvata dalla Giunta regionale, che se venisse messa in atto colpirebbe i settori più importanti della nostra economia e della nostra società. Dalla tassa di soggiorno usata strumentalmente per colmare i debiti del governo Lombardo, alla liquidazione degli ACP, sembra che il governo abbia dimenticato i bisogni del territorio. Ma vediamo i particolari in questi due servizi. Aumenti di tasse, blocco di contratti, dismissioni di enti, election day. Il governo Lombardo continua a toccare profondamente tutti i settori della nostra economia, gettando del tutto la maschera e pensando addirittura di lucrare dal settore del turismo per coprire i debiti di bilancio. Il segretario del Partito Repubblicano italiano Gino Calvo interviene a proposito della tassa di soggiorno che si intende mettere sui turisti che arrivano in Sicilia. Sono stato il primo, ha dichiarato Calvo, a sostenere la bontà della tassa di soggiorno da applicare attraverso le strutture turistico-ricettive siciliane, così come avviene tra l'altro in molte parti del mondo. Ma non si può di certo pensare, come invece intende fare il governo Lombardo e la sua maggioranza, di usare le risorse che si ricaveranno dalla tassa di soggiorno per tappare i buchi del bilancio regionale. L'idea che abbiamo sempre avuto sulla tassa di soggiorno è una ed una sola, aggiunto il segretario regionale del PRI. Le somme che si ricaveranno devono essere totalmente reinvestite in servizi per il turismo e non certo per colmare i debiti di una gestione fallimentare da parte del governo Lombardo. Se il governatore e la sua maggioranza non cambieranno presso idea, il comparto del turismo subirà il tracollo piuttosto che il tanto auspicato rilancio. A chi e a quale prezzo verranno venduti gli immobili di proprietà dell'OIACP se la proposta approvata dall'Aggiunta Lombardo andrà in porto, il presidente dell'OIACP di Ragusa Giovanni Cultrera si dice amareggiato per la paventata liquidazione degli istituti che si occupano delle case popolari. Se si prosegue su questa strada, ha aggiunto Cultrera presso l'edilizia residenziale pubblica in Sicilia, scomparirà. E dove andranno a vivere tutti coloro che non possono permettersi di pagare i suosi affitti mensili, chi non riesce neanche a pagare gli affitti bassissimi di un alloggio popolare, come potrà acquistarlo? E chi ne è proprietario? A chi e a quale prezzo venderà? Il secondo problema sarebbe legato, a dire del presidente dell'OIACP, Ibleo, alla sicurezza degli stabili. Se venissero acquistati da chi vi abita attualmente, chi si occuperebbe della messa in sicurezza degli stessi? La gente che abita l'edilizia popolare non ha spesso le possibilità economiche per dare seguito ai bisogni strutturali degli alloggi. Adesso ce l'OIACP e poi? Insomma, sono tanti, forse ancora troppi, interrogativi che ruotano attorno ad un ente che fino ad oggi ha dato la possibilità a migliaia di persone di avere un tetto sotto il quale vivere. Se gli alloggi verranno venduti a privati, l'emergenza diverrebbe, oltre che economica, anche sociale. Chissà se anche questa volta a pagare le spese delle scelte del governo sarà la gente più bisognosa. E continuiamo ancora a parlare di politica, ma questa volta ci spostiamo alla politica nazionale. Il deputato del PDL Nino Minardo ha avanzato una proposta di legge per alleggerire i contribuenti dai gravami del fisco. Ma sentiamo in questo servizio quali sono i punti salienti della proposta. Una proposta di legge per alleggerire la pressione del fisco nei confronti dei cittadini e delle imprese. A presentarla in Parlamento il deputato nazionale del PDL Nino Minardo. La proposta di legge si pone nell'obiettivo di dare il respiro a tutti colori che hanno un debito verso l'erario, eliminando costosi aggravi procedurali nella rateizzazione dei debiti tributari. Le disposizioni contenute nell'iniziativa legislativa sono volte ad estendere l'abrogazione dell'obbligo di garanzie fideiussorie ed ipoteca volontaria per poter accedere alla rateizzazione delle somme scaturenti dalla liquidazione automatizzata e dal controllo formale delle dichiarazioni. Inoltre la proposta di Minardo vuole modificare le misure sanzionatorie previste laddove il contribuente, sempre a causa della forte crisi della liquidità, si trova nell'impossibilità del pagamento delle rate entro la scadenza prevista. Cambiamo argomento e torniamo a parlare dell'Università di Ragusa Ibla. È arrivata infatti la risposta irremovibile del rettore di Catania Antonino Recca circa la chiusura delle facoltà di Agraria e Legge, ma si prospettano altre difficoltà per il consorzio. Vediamo il servizio. Chiusa la questione Università Ibla, irremovibile stato il rettore dell'Università di Catania Antonio Recca, i corsi di Agraria e giurisprudenza chiuderanno il 30 ottobre. Tutto secondo quanto stabilito dalla Convenzione del 21 giugno del 2010 e a niente sono avalsi gli interventi del prefetto di Ragusa, dottoressa Cagliostro, e del prefetto di Catania, dottoressa Carnizzo. E le cattive notizie non arrivano mai da sole. Il rettore ha annunciato di avere inviato un decreto ingiuntivo al consorzio per recuperare 650 mila euro della seconda rata della vecchia transazione. Si attenne con molta probabilità un ricorso da parte del consorzio stesso. La cosa certa è che adesso rimarrà solo la facoltà di lingue, in esclusiva nella città di Ragusa, e il corso di lauree Scienze Politiche di assistenti sociali con l'Università di Messina, che forse da Modica sarà spostato nel capoluogo ebleo. E ci spostiamo adesso a Vittoria, dove ieri sera si è riunito il Consiglio Comunale. Tra i punti all'ordine del giorno spiccava la delibera che riguardava la raccolta differenziata, ma i lavori sono stati interrotti dall'occupazione dell'Aula, da parte dei consiglieri di opposizione dei lavoratori dell'Amio, che chiedono il rispetto delle gradatorie per l'assunzione. Vediamo il servizio. Consiglio Comunale Occupato. Ieri sera a Vittoria si doveva discutere della delibera che riguarda il mando per la raccolta differenziata, ma i lavori sono stati interrotti dall'occupazione da parte dei consiglieri di opposizione e dei lavoratori dell'Amio, che da settimane reclamano il rispetto delle gradatorie per le assunzioni. Già durante l'ultima seduta il clima era stato piuttosto invocato, perché in Aula doveva essere discussa una mozione che riguardava proprio la situazione dell'azienda di igiene urbana. Mozione che però era stata spostata al 13 ottobre. Ieri sera Francesco Aierlo, consigliere comunale del Movimento Democratico Territoriale, ha riproposto la questione in Aula, anche se all'ordine del giorno c'era appunto la raccolta differenziata. E dunque, a causa dell'ennesima occupazione dell'Aula consigliare, i lavori sono stati sospesi e la discussione è stata rinviata. E dalla maggioranza arrivano i primi commenti dopo quanto accaduto ieri sera. Enzo Cilia Di Selli, infatti, parla di mortificazione del civico consesso e di ostruzionismo per non permettere il regolare svolgimento della seduta e la discussione sulla raccolta differenziata che la città di Vittoria aspetterà mai da troppi anni. E restiamo ancora a Vittoria. Nell'Odieli è il nuovo coordinatore cittadino di Futuro e Libertà. L'ex consigliere comunale di Vittoria che cambia è stato indicato da uno dei coordinatori regionali del partito, Francesco Iemolo. Con molto piacere ha dichiarato Dieli, ha avuto l'onore di essere stato indicato come responsabile del circolo di Vittoria. Il movimento politico di Vittoria che cambia, a cui sono fortemente legato e riconoscente, conclude Dieli. Continuerà la propria attività come associazione politico-culturale, in stretta collaborazione e conflitto. Infine Dieli ha dichiarato apertamento che Futuro e Libertà Vittoria si pone all'opposizione dell'attuale amministrazione comunale. E ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco.